del profilo per dirvi che qui parigi è bellissima e ovviamente sto mangiando una buonissima crepe potevo non assaggiare la crepe a parigi situazione collo non riesco a muovermi più di così ma c'è anche fatica a portare fuori Kino eh ragazzi e e e e e e e e e Grazie a tutti. No, vabbè, mi sono resa conto di avervi fatto vedere gli orecchini praticamente per sbaglio, quindi a questo punto ve li faccio vedere, dai li faccio vedere a tutti. Grazie per la piadina, grazie per i wafer, siete troppo gentili. È il minimo che possiamo fare. Grazie. È una cliente meravigliosa come te e per noi è il minimo. Grazie. Anzi, la migliore concorrente è il CF. No, no, no. Grazie a tutti.